Oggi vogliamo parlare di bellezze naturali, vogliamo parlare della natura, della conservazione, della valorizzazione, soprattutto della tutela ambientale. Noi siamo molto sensibili all'ambiente e quindi accogliamo con gioia veramente i progetti che vengono proposti proprio per valorizzare e conservare tutto ciò che è natura, cioè tutto ciò che è bellezza, tutto ciò che è creato. Storia oggi incontra la dottoressa Marta Romano. Marta, benvenuta a TG7 Basilicata. Ciao, grazie, grazie a tutti. Possiamo darci del tu perché sei giovanissima. Ovviamente. Cominciamo un po' questo cammino nella natura. Allora, Marta ci ha presentato un progetto che si chiama Salviamo le Farfalle d'Italia. Un progetto bellissimo, lo presenteremo, ne parleremo, però intanto Marta con te vorrei parlare prima di tutto di questa ONG internazionale, di che cosa si tratta e che progetti porta avanti. Grazie Angela, grazie a tutti e soprattutto grazie per la sensibilità e l'interesse innanzitutto. Io faccio parte di questa ONG che si chiama la World Sustainability Organization, WSO. Questa organizzazione è una organizzazione non governativa che opera a livello internazionale e si occupa proprio di salvaguardia degli habitat naturali e delle specie a rischio. Lo fa attraverso due certificazioni, che sono Friend of the Earth e Friend of the Sea, cioè amico della terra e amico del mare. Infatti, diciamo, la storia di questa organizzazione parte dal mare per approdare alla terra, in un certo senso, perché il nostro direttore, Paolo Brai, ha fondato il progetto Dolphin Safe, che è un progetto sul tonno per evitare appunto la morte dei delfini, che rimanevano impiegliati nelle reti da pesca dei tonni, e da qui, visto il successo di questo progetto, che comunque negli anni aveva salvato milioni di delfini, ha lanciato dapprima la certificazione Friend of the Sea e quindi la certificazione Friend of the Earth. Queste due certificazioni si occupano di garantire che i prodotti, in un caso appunto prodotti ittici o di acquacoltura, nell'altro caso prodotti agricoli, siano pescati o comunque siano prodotti in maniera sostenibile, e quindi evitando il sovrasfruttamento del mare nel rispetto dei prodotti ittici, o del suolo idrico, evitare uno spreco, un eccessivo spreco, e quindi cercare di salvaguardare l'ambiente in questo modo. Oltre a queste certificazioni, diciamo, da queste certificazioni nascono dei progetti di conservazione, tra cui proprio quello di cui raccontavi Angela, ovvero salviamo le farfalle. Sandy, infatti parliamo un po' di questo progetto, comunque un progetto meraviglioso, bellissimo. Sandy, che riscontri ha avuto fino adesso tutto questo? Cioè nei fatti praticamente poi si sono visti i risultati? Assolutamente sì. Diciamo che le certificazioni sono riconosciute a livello non solo nazionale, perché siamo l'unica certificazione riconosciuta a livello nazionale dall'ente certificatore Accredia, ma anche a livello internazionale. Abbiamo una riconoscibilità presso i centri di, diciamo, gli enti di certificazione a livello internazionale, ed è riconosciuta come certificazione indipendente, e soprattutto che rispetta un audit particolarmente rigido di tracciabilità, e quindi, diciamo, sia le aziende che comunque si rivolgono a noi per questo tipo di certificazione, sia i cittadini lo riconoscono come una certificazione realmente indipendente, soprattutto di reale salvaguardia dell'ambiente, e alla ricerca appunto di un equilibrio tra uomo e natura. Marta, tu mi hai parlato di questo progetto Salviamo le Farfalle, perché, diciamo, non l'abbiamo detto all'inizio, è stata una mia dimenticanza, ma lo dico adesso, perché tu sei di Monticchio Bagni, e vivi e lavori a Roma, per questo stiamo facendo questa intervista a distanza, quindi tu sei cresciuta, vissuta nella natura. Questo progetto è vero sì che è a livello globale, ma tu giustamente ce l'hai proposto, ce ne hai parlato, e hai avuto sensibilità per questo, e ti ringrazio, proprio perché noi siamo nella zona del Vulture, dove sappiamo che c'è la riserva di Grotticelle, dove è custodita la famosa Bramea, a parte poi tutto il panorama delle Farfalle, giusto? Esattamente, portiamo avanti diversi progetti, però chiaramente il cuore da una volta mi ha portato a parlarti proprio di questo progetto, salviamo le Farfalle, perché nella terra della Bramea, nata e cresciuta, circondata dalla natura, in un certo senso, credo di aver sviluppato un po' una sensibilità, un interesse... Era proprio doveroso da parte tua, forse. Esatto, non ho potuto evitare, diciamo. È stata proprio quasi una necessità, in un certo senso, cercare di conoscere quanto più l'ambiente e anche le diverse tipologie di Farfalle che abitano il nostro territorio. Quindi mi sembrava quasi doveroso. Bene, adesso descriviamo un po' questo progetto. A me sai perché è piaciuto questo progetto, a parte proprio perché parla della conservazione delle Farfalle, ma mi è piaciuto perché è il primo progetto dove vede coinvolti direttamente i cittadini, almeno per quello che ne so io di progetti che riguardano la natura, perché il cittadino è direttamente chiamato ed interessato al rispetto alla valorizzazione della natura. Perché? In che cosa consiste questo progetto? Cioè i cittadini possono, se incontrano una farfalla, possono fotografarla e mandarla ad un numero Whatsapp dove praticamente viene descritto il tipo di farfalla che è stato trovato, le coordinate e successivamente viene fatta una mappatura. Giusto? Io l'ho detto in maniera sommaria adesso, tu adesso ci spiegherai il progetto nei dettagli. Esattamente, sei stata molto chiara, un po' in breve diciamo, il progetto che si chiama appunto Salviamo le Farfalle ha questo obiettivo, creare un censimento globale delle farfalle in maniera anche piuttosto semplice ed immediata, nel senso che il cittadino è chiamato a rendersi un po' esploratore, a rendersi partecipe e quindi basta fotografare una farfalla, la farfalla che si incontra, chiaramente magari facendo attenzione a non disturbare l'animale, inviarla a questo numero che è il 351 252 252 0 tramite un semplice messaggio di Whatsapp, inviando la foto si riceveranno delle informazioni rispetto a quel tipo di farfalla e le informazioni verranno aggiunte ad una mappa globale che potete trovare sul sito, sul sito Friend of the Earth, appunto nella sezione Salviamo le Farfalle e questo progetto di censimento globale diciamo cerca di avvicinare il cittadino alla natura, anche appunto, dicevo, cercando di renderlo quasi un esploratore, nel senso che comunque ognuno, diciamo l'obiettivo è quello di rendere consapevoli e responsabili anche i cittadini, perché ognuno può fare la propria parte, ovviamente con i propri mezzi, le proprie capacità, le proprie risorse, però ognuno è chiamato a fare la propria parte per la salvaguardia dell'ambiente e quindi anche attraverso un piccolo gesto, attraverso una foto, quante foto facciamo al giorno e quanti messaggi mandiamo su Whatsapp, magari una piccola attenzione può essere un piccolo tastello per costruire un progetto più grande che è quello appunto del sentimento globale. E' bellissimo veramente questo messaggio proprio del coinvolgimento delle persone, io immagino una famiglia, immagino con dei bambini, allora diventa anche un fattore educativo. Ma anche, io credo, anche uno stimolo a tornare nella natura, a tornare a fare quelle lunghe passeggiate che nei nostri territori sono così belle, quindi diciamo attraverso questa immersione nella natura si può partecipare ad un progetto internazionale, anche dal locale al globale. E' un progetto importante perché so che in Italia, l'Italia è l'unico paese europeo dove c'è il 60% delle farfalle, giusto? Esattamente. C'è un sistema particolare. Assolutamente. Secondo l'Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, l'Italia è il paese europeo che annovera la maggiore varietà di farfalle, appunto circa il 60% sul totale delle specie presenti nel continente. E, diciamo, questa è la parte positiva. La parte negativa è che il 4% di queste è a rischio estinzione, a causa di pratiche di agricoltura invasiva che ne minacciano gli habitat naturali. Io voglio parlare proprio di questo. Il rischio di estinzione, Marta, non è dovuto soltanto alle farfalle in sé perché non c'è tutela, non c'è valorizzazione e conservazione, ma è anche un fatto relativo all'habitat, è vero? Esattamente. Esattamente. Magari delle pratiche di agricoltura intensiva, il cambiamento climatico, rischiano di minacciare. Esattamente. Rischiano di minacciare gli habitat in cui le farfalle sono nate e cresciute, si sono sviluppate appunto nel corso degli anni. E questo provoca il rischio di estinzione, motivo per cui, diciamo, al di là del censimento globale, Friend of the Earth collabora con l'associazione Polixena, appunto in questo progetto di salvaguardia delle farfalle, e in particolar modo nel 2016 è stata creata la cosiddetta Casa delle Farfalle, chiamata Farfallia, presso il giardino botanico a Monopoli, in provincia di Monopoli, e attraverso questa casa delle farfalle vengono riprodotte ex situ le farfalle, crescono e vengono poi, una volta cresciute, vengono rimesse nel territorio. Tutto il ciclo vitale, giusto? Esattamente. Cercando poi di rimetterle nel proprio habitat naturale per ripopolare laddove appunto sono a rischio estinzione le farfalle. Senta, Marta, riferito sempre alla zona del vulture, qual è la specie che è più presente nel territorio, nel nostro territorio? Anche se comunque è a rischio di estinzione, addirittura si parla del più del 90%. Mi trovi impreparata. Va bene, comunque è chiaro che si ha un quadro generale, insomma è una mappatura globale quella che avete voi, è chiaro che relativamente al vulto, anche forse perché il progetto non è ancora partito, e proprio per questa intervista la facciamo per questo, perché vogliamo far conoscere il progetto e speriamo insomma di attuarlo nel nostro vulture. Infatti poi con te ci aggiorneremo penso fra qualche mese, se vuoi, proprio per sapere come è andato questo progetto e se la gente poi risponde al risposto. Assolutamente. Diciamo che siamo molto orgogliosi perché è un progetto nato all'inizio del 2021, quindi tra le varie chiusure, nonostante questo, nonostante tutto, sono già arrivate più di 240 immagini di farfalle e quindi comunque il progetto è iniziato e sta pian piano ingranando, quindi il nostro obiettivo è quello di farlo conoscere perché attraverso la conoscenza si può arrivare ad una collaborazione, quindi una crescita della... La nostra collaborazione ce l'hai Marta perché comunque vogliamo darti una mano per quello che possiamo fare, tu ce lo dici, noi siamo a tua disposizione proprio per far conoscere questo progetto che è bellissimo. Senti, tu, essendo giovane, trovi una sensibilità ambientale da parte dei giovani, delle giovani generazioni? Guarda, secondo me qualcosa sta cambiando, diciamo sta cambiando proprio l'approccio rispetto alla sostenibilità, rispetto... Stiamo iniziando a capire che non siamo soli e soprattutto che il futuro è nelle nostre mani e quindi in un certo senso sta cambiando un po', c'è noto maggiore sensibilità da parte dei giovani rispetto all'ambiente. È sicuramente un processo lungo, culturale, che necessita di tempo, però secondo me diciamo siamo sulla strada giusta verso la sostenibilità, anche perché una vita non sostenibile non è più sostenibile. No, ci si rende conto, almeno, non so se ci si sia resi conto, che senza la natura la vita dell'uomo non è possibile. Assolutamente. Siamo ancora coscienti e consapevoli. Qualche giorno fa abbiamo celebrato la giornata delle api, come ben sai, e forse l'uomo non è ancora cosciente dell'importanza della natura. Assolutamente. è un processo culturale molto lungo che richiede uno sforzo e un impegno, anche perché per tanti anni abbiamo del tutto ignorato il fatto che comunque il mondo, il pianeta non fosse un posto infinito, ma con risorse finite. E quindi, diciamo, pian piano però cerchiamo di sensibilizzare, diciamo, il nostro obiettivo è anche questo, cercare di portare, sensibilizzare tutte le persone, dai giovani ai meno giovani su questi progetti proprio per cambiare questo meccanismo e provare a lasciare magari ai nostri figli, anche noi più giovani, lasciare ai nostri figli un futuro migliore e anche un pianeta più sano. Senti, qual è secondo te il modo proprio per scuotere la coscienza, le coscienze verso la tutela ambientale, per avere maggiore attenzione? Guarda, io credo che, tornando al discorso di prima, ognuno debba fare la propria parte, ognuno con le proprie risorse, le proprie competenze e la propria coscienza. Ogni gesto, ogni piccolo, anche ogni piccolo gesto può essere un modo per sensibilizzare la persona che mi avvicino. Quindi nel momento in cui io cerco di vivere in maniera sostenibile è una persona magari, vedi il mio esempio, può essere anche questo un piccolo gesto per migliorare l'ambiente, per migliorare proprio la cultura e il pensiero. Sandy Marta, ci arriviamo alla conclusione. Voglio chiederti, ma questa ONG internazionale si occupa anche di individuare eventuali fonti di inquinamento in un territorio? Diciamo che il nostro obiettivo è quello di trovare quelli che sono i problemi e provare a porre una soluzione a questi problemi. Pensiamo ad esempio al problema delle farfalle nel momento in cui il problema è un allevamento in agricoltura intensiva che magari minaccia le risorse idriche e il suolo di un territorio noi promuoviamo la certificazione per garantire che le aziende che rispettano degli standard importanti di salvaguardia siano favorite e quindi cerchiamo di sviluppare un tipo di coscienza positivo nel senso cerchiamo di attraverso ovviamente degli audit quindi comunque delle verifiche molto molto precise cerchiamo di premiare con la nostra certificazione quelle aziende che si comportano in maniera in maniera positiva e quindi eliminare in questo modo i problemi che possono derivare dall'industria o dalla pesca bene allora concludiamo Marta con un diciamo un tuo appello anche ti ripeto per aiutarti per aiutarvi in questo bellissimo e valido progetto quindi diciamo i cittadini che quando andranno a fare una bella e salutare passeggiata di fotografare la farfalla di inviare una foto sul numero whatsapp e così contribuisce ad una mappatura globale ora concludi che fai tu l'appello allora innanzitutto non posso concludere senza ringraziarti senza ringraziare tutta la redazione perché diciamo avere questo interesse e questa sensibilità non è non è comune assolutamente quindi non posso che non posso che ringraziarti ognuno deve fare la propria parte ognuno deve essere una goccia nel mare quindi io ti ringrazio davvero il mio appello è quello di provare a mettersi in gioco e adesso che ci saranno le belle giornate fare una passeggiata cercare di aiutarci attraverso questo piccolo gesto che è una fotografia o una foto su whatsapp e mandarla a questo numero che ripeto è il 351 252 252 0 comunque trovate tutte le informazioni sul sito friend of the earth e aiutarci appunto a contribuire a questo sentimento globale ma soprattutto a salvare il pianeta grazie Marta veramente per non solo per la tua disponibilità di oggi ma soprattutto per il tuo impegno per la valorizzazione e la tutela dell'ambiente per quest'amore che hai per la natura grazie e buon lavoro grazie anche a voi grazie un abbraccio grazie a tutti grazie a tutti